Grazie a Karimaca per i 3 euro. Cari tristi dolcemente i capelli d'Agnese da parte mia sussurrando che è un dolce angelo. Amore. No, no, niente, niente. No, nulla, nulla, nulla. Sotto a posto, sotto a posto. No, sotto, sotto, ho già fatto. Dichiaro a te mentre mi seguo. Cigarette, safters, shrek e grazie per te. Non stai dicendo, dichiaro a te. No, no, dici. Ma dimmi, dai, dimmelo, dimmelo. No, no, praticamente c'è... Chi c'è? Come si chiamava il mod? Marco Capriti. Io tanto conosco il G, veramente... No, ma Marco Capriti ha detto se praticamente ti può scrivere, anche se le commissioni sono chiuse, per farti... Ma mi puoi dire cos'è che mi devi dire, a favore? No, veramente, Marco Capriti si vuole... Ma perché non mi vuoi dire? No, Gischianto vuole chiudere la live, amore. Ma va, fanculo. Matte, prova a finire a bocca a fare lezzo. Prova, non tu? Lezzo! Bravo, dirne, Cip, te che sei il maestro. In queste osi. No, tu ho un maestro, però, insomma, sono sempre stato pro sega. Cioè, quando uno dice no, non mi seguo più perché ho la fila. Bravo. No, questa è ragione. Oggettivo. È come se tu dicessi... Un maestro più... Un maestro più... De 5 e 5 perché mi ma è a cuocare. Cosa vuoi dire? Non è perché tu matti ti cucini. No, una volta penso che mi sono dormendato in una chiesa. E cosa ci facevi in una chiesa? Ubriaco. Mi sono rigevigliato nella chiesa, mi sono rigevigliato la mattina. E prete ha detto... Ehi, cosa stai facendo? Ma cosa cazzo ci facevi in una chiesa ubriaca? Non lo so, non lo so perché sono andato in una chiesa, non lo so. Benissimo. Molto carino. Tipo che ne so, questo. Donne, è arrivato la rotina. Cortelli, accendino. Noi ripariamo la vostra cucina a gas. Donne, è arrivato la rotina. Comunque facciamo salire questo timer! No! Facciamo salire! Noi ragazzi! No, no, ma che c'è? Cento! Cento! Maestro, maestro. Da chi le è stata suggerita questa cosa del cento? Insomma, è venuta fuori da lei oppure... È nata adesso. È nata adesso. È nata adesso. Ok. Ha cambiato capigliatura. Si può fare! Si può fare! Si può fare! No, maestro. Devevo andare 88 miglia orari. 8 miglia orari! Dio. Bellissimo. Sono pronto per l'ex. Grazie, maestro, grazie. Ragazzi, no, vi prego, no, ragazzi. Se arriva a cento il timer di Dario, arriva a cento giorni. No, 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 maestro. Anche la mia live! Andate, ragazzi! Ma che effetti sonori fai con quelle palle? Più o meno questo! Eh, risulta tipo... No, Victor, dai! Devo fare il greco! Chi? No! No, maestro, no! Questo è questo, me li avevi prenduto. No, buono, buono, buono. Buono. Mario! Grazie! Grazie, Dario! Grazie! Ah, il coso, il... Grazie mille! L'autotunnel! Pure mi sono emozionato! Ehi che... Ma dove l'hai trovato un casco, tra l'altro? E gli schizzi? Ah, 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 ah! Storia, no, capito? Arriva, 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 la storia, la sto raccontando, la sto raccontando. Era una notte buia e tempestosa, quella che stavano affrontando i nostri eroi. Vabbè, ma non è tempestosa, cioè, che tempesta è questa? La tempesta, maestro. La tempesta, maestro, aiuti i russi per la tempesta. Benissimo. Sembrava un mega, un mega scorreggione. Allora. Vabbè, vabbè, l'abbiamo capito, c'è una tempesta. Ma i nostri eroi... Ma i nostri eroi... Ai nostri eroi non interessava. Dovevano penetrare nella grotta di Elsdlach. Ah, questo è l'eco della grotta. Beh, ci sta, ci sta onesto oggi. Piracchi a un certo punto non... Non spunta un dinosauro. Sembrava... Sembrava la morte in Street Fighter, questa qui. Sì. Bye, everyone, and coming, I'm going to... To Lexus. Biglietto, aspetta, biglietto per... Dove sei, New York? tilt, maestro. Airplane. Hanno refers a vedere, maestro. Airplane. grazie a Mr. Forza grazie a Mr. Forza yes baby grazie bici bici per i travel siamo in una società siamo in una società per cui a certe persone avere il pene molto piccolo pesa e poi succedono queste cose favano sfavano non dovrebbero e c'entra perché secondo me ma che c'entra io ce l'ho non è il scherzo fisico ma non è il scherzo fisico ma non è la battuta è vero ma anch'io ho un'unghia non è che vado molto più in su però nel senso è da un punto di vista mentale che stava dicendo ma che devono accettare per quello che sono io accetto per quello che sono cioè se non è stato fatto così perché devo cambiare no 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 ma lui parlava di questa persona che sta continuando a provare no lo so lo so era metaforico che uno per compensare ovviamente è una battuta ragazzi una battuta una battuta una battuta una battuta una battuta che l'ex non capisce adrile non ho capito che ecco come è now you're not gonna translate for me ma se no we don't think everything ok don't worry praticamente di notte verso le tre le tre e mezzo il monster del ryokan decide di punire le persone che hanno commesso degli sbagli quindi si vocifera che dentro la stanza dei tormenti entri uno yokai quindi un demone giapponese completamente nudo quindi senza veste addosso ha quattro zampe che emette un verso un verso inquietante che però non è quello non è quello quasi quasi non è quello emette un verso inquietante che però avverte anche della sua presenza e quindi permette al dormiente di rifugiarsi da qualche parte il verso è questo fatto tre o quattro volte questo verso il monster ryokan apre la porta e quattro zampe si sdraia sul futon del malcapitato di quello che ha commesso l'errore e spalanca le sue fauci che non sono superiori ma posteriori davanti al malcapitato per mostrare tutto il suo sdegno ecco perché lexie non lo conosce adesso si è capito ora abbiamo capito questo mostro questo mostro ha due aperture una anteriore e una posteriore di solito apre quella posteriore per mostrare tutto lo sdegno possibile faccio un breve reazione essere tuo amico è un'avventura nel pantabosco ma si scherza si scherza comunque a parte questo io non sono mai permesso di fare queste cose con le ragazze ovviamente cioè con la mia sì però non è che le mostro il culo in segno di sdegno no aspetta nel senso sbagliato no ma nel senso che non si fanno queste cose non si fanno quando avevo 11 anni anche io grande grandissima ho scoperto la discoteca non l'ho fatto più no a me è partita una bestemme fuori dalla chiesa e me l'hanno impedito di continuare a farla quindi no io penso che serviva padre Victor padre Victor scherza padre nostro che sei santificato il tuo nome venga tu è uguale si è fatta la tua volontà Francesco facci oggi il nostro pane quotidiano che rimetti a noi i nostri fatelo ma continui per favore sembrava proprio il pretino il pretino quello con l'audio spasato della chiesa sembra quello di verdone si si bravo bravo si 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 vedete oggi siamo qui a celebrare la golliardia un tanto in bacio bravo sei grevi in senso buono you are a graveyard but le hai dato un cimitero lo so lo so lo so lo so ok lo so è meglio if you just cover a little bit your ok just like that thank you the chat is he's going crazy the chat is weird chat is goliar internet internet is weird Lexi please it's weird yeah drop di 2000 spettatori però milla pupa scrivono magella traditore that was just all a snitch esatto exactly oh god they are bigger big boobs aiuto aiuto daniele ma sembri un cazzo di portuale americano cioè oh big boobs e dei camionisti sono la tromba ma dio madonna esatto 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 queste sono cose che le ho insegnato però deve ancora raffinare l'italiano datele un attimo hai imparato le cose più importanti e basta sì 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 quello è sicuramente la più importante sta cosa se il drummino vorrà ne fa sentire male basta va bene così cosa è stato attirato da qualcosa lo zoom box metto di rf o dopo quince un po' quince non riesco a fare niente africa outing con quanto riguarda me la godo io sono un grande membro di me la godo invece non mi viene non si capisce manco più cosa dice questa cosa non l'ho mai vista un commento a caldo di barabba sulla crisi in medio oriente casino è un casino il zunto il zunto è un casino